buongiorno possiamo fare l'intervista al direttore dei lavori tu sei il direttore dei lavori dove siamo la casa tua questa non è casa tua questa è la sede di hans tv riprenderemo il programma tra il serio e il faceto non sappiamo ancora quando andrà in onda perché visto che sei il direttore dei lavori usavo quando finiscono guardo marra quanto è bello ma possiamo andare in onda allora se c'è il mare allora questa è la prima stanza dove faremo il programma vediamo vediamo fai strada dai e qua che cosa è la sala no qual è la sala regia a presto ci vediamo con la nuova trasmissione e il faceto ciao